Ciao cari e benvenuti in questo video, raga parlo piano perchè sono le 5 e 10 ed è l'unico momento in cui posso fare il video Oggi c'è il ritorno dei quarti di Champions, andiamo a vedere settimana scorsa che mi ho cominato Prima delle desiti 1 a 1 è finita 3 a 3 Arsenal vai in Monaco 0 a 2 è finita 2 a 2, il giocatore segnale è Eric Hain PSG Barcellona 1 a 2 è finita 2 a 3 e prima squadra segnale è Barcellona, infatti è stata in Barcellona Atletico Dortmund 1 a 0 è finita 2 a 1 Per oggi vi dico Dortmund Atletico, per me finirà 1 a 1 Mi gioco pure questo qua, vi dico Dortmund Marcellona PSG 2 a 1 Qua vi dico Lewandowski Arsane Bayer Arsane Bayer Ci abbiamo la quarta, vi dico 2 Anzi vi dico 3 a 1 E si direi al vi dico 2 a 1 E si direi al vi dico 2 a 1 E si direi al vi dico 2 a 1 E si direi al vi dico 2 a 1 Mentre le dico 2 a 1 E lo metto qua Niente raga, questi qua erano i miei pronossici, lasciate il like, iscrivetevi e attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre con uno video cuci raga Grazie.